Tra le tappe in linea la Bergamo-Como è la più corta del giro, appena 143 km. Tappa pomeridiana, tappa del caldo e della sete. A spegnerla penseranno i portatori d'acqua. Ogni fontana è un invito. La strada è tutta un inno a Bartali e Coppi. 40 di media, anche dove l'incantevole bellezza dell'Ario inviterebbe a concedere un'ora del viaggio all'ammirazione della natura. Crisio è un grande francese, Stendhal, e questo è il luogo più bello del mondo. La tappa non passerà senza storia. A tre chilometri da Como una macchina del seguito provocherà la caduta di 40 corridori, tra cui Coppi e Bartali, molti contusi e qualche ferito. Sangue sgorga dalla fronte di Lambertini, ma i girini sanno essere stoici. Una stommaria fasciatura e via, si riparte. Intanto nel gruppo di testo... ...e con Bartali sarà vittima di una caduta, sicché non saranno i primi a Sinicaglia, dove Patossi gioca da Sputia il grande Master Merger. Tra i tempi dei tour, 1950, Paglottino, orgoglio di Pavia, non vincere.